Salve a tutti amici e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di nuovo di Fujifilm. Ebbene sì, dopo quasi un annetto parliamo nuovamente di Fujifilm. L'ultima volta parlammo della X-H1, se non vado errato. Oggi parliamo invece di una neo-arrivata, quindi arrivata da pochissimo tempo, che non ve lo svelo ancora, perché mi è arrivato un bello scatolo, un bel pacco da RCE Photo. Infatti questo video è in collaborazione con RCE Photo, uno degli store online più grandi d'Italia di compravendita usato fotografico, dove hanno tantissimi prodotti, anche a prezzi davvero molto vantaggiosi. E grazie a loro che mi hanno dato la possibilità di poter recensire una macchina neonata, perché la X-T30 mi sono fatto scappare, che cos'è? Vabbè, intanto l'avrete di sicuro letto, quindi passiamo direttamente all'unboxing, perché andiamo ad aprire una Fujifilm X-T30, in kit 118-55-28-F4, se non vado errato. Quindi oggi ho eliminato la seconda camera, perché era bruttarella da vedere, ma vi faccio vedere subito il contenuto. Andiamo ad unboxarlo insieme. Voilà! Fresca, fresca di pacca Fujifilm X-T30. Vediamo se mette a fuoco... qua si mette a fuoco... no, preferisce i miei occhi la macchina. Va bene così. Allora, comunque abbiamo una X-T30 in kit con 18-55-F28-4, ricordavo bene. E questa macchina me l'hanno inviata nuova, quindi hanno anche nuovo all'interno del loro store, quindi è fantastica questa cosa. Macchina neonata da poco, ed è la sorellina minore della Fujifilm X-T3. In tanti aspettavano questa versione, perché cambia poco rispetto alla X-T3, ma ha un prezzo più contenuto, con lo stesso sensore. Quindi... e abbiamo anche tantissime bellissime funzioni di questa camera che fanno invidia anche a tutti gli altri competitors. Vado velocemente ad aprire la confezione, così diamo un'occhiata veloce a cosa c'è all'interno. Abbiamo manuali, 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 nell'aprire nel primo scatolino. Abbiamo il corpo macchina, che è davvero davvero fighissimo. Ah, sarò il primo a togliere l'adesivo. Sono quei momenti magici di un unboxing che non verranno dimenticati mai. Ecco qua il corpo della X-T30, che aveva lo sportellino della batteria aperta. Corpo leggerissimo, piccolissimo, che ricorda quasi in toto quello della X-T3, che è una grandissima macchina. Poi abbiamo all'interno della confezione un'altra confezione, dove all'interno probabilmente ci sarà batteria, carica batteria... No, la lente, giustamente, dimenticavo che in questo kit c'è anche una lente. E abbiamo esattamente... Ok, l'obiettivo, che è un, ripeto, 18-55mm f2.8-4mm, quindi ad apertura variabile. Eccolo qui, in tutto il suo splendore. E comunque compattezza, perché ricordiamoci che questa è una camera mirrorless. Ed il sensore è APS-C, quindi il 18-55mm, con un rapporto di circa 1,6mm, diventerà circa un 28mm per 75mm. Va, facciamo un calcolo molto approssimativo. Lente che esce con il suo paraluce originale. Eccolo qui. Abbiamo poi presa italiana per caricabatterie. L'accettino Fujifilm in pelle, bellissimo, ma io utilizzerò il mio fidato, la mia fidata tracolla della Peak Design. Cavo USB di tipo C, ne ho un altro di là, quindi è inutile tirarlo fuori. E batteria, che è qui. Che è una batteria che dovrebbe durare non poco... Vediamo un pochino se c'è scritto da quant'è. Da 1260A, quindi non è assolutamente malaccio. Caricabatterie non c'è, perché va caricato direttamente... La macchina si carica via USB. Infatti abbiamo l'adattatore USB con la presa italiana e un cavetto con USB di tipo C. Quindi il caricabatterie va acquistato separatamente. Ma probabilmente io utilizzerò i miei cavi con il mio adattatore per caricare questa fantastica macchina. Ed ecco qui assemblata questa fantastica Fuji X-T30 che proverò per una decina di giorni e poi vi darò tutte le mie considerazioni. Quando Fuji ha presentato questa bestiolina, beh, non tutti quanti ce l'aspettavamo. Questo perché l'evento che è stato organizzato per la presentazione ci si aspettava chissà cosa, un elemento gigantesco. Qualcosa di enormemente innovativo, anche perché l'X-T3 era un prodotto uscito sul mercato davvero poco tempo fa. E nessuno si aspettava di ritrovarsi con praticamente un X-T3 rimpicciolita. Perché è esattamente questo che è questa macchina. È un X-T3 rimpicciolita. Loro l'hanno definita in conferenza stampa, ascoltando chi è stato presente, che questa macchina è un'X-T3 martellata, quindi resa più compatta. E infatti ritroviamo in questo corpo macchina tantissime delle feature, non solo sotto la scocca ma anche fuori, che ci ricordano esattamente la sorella maggiore della X-T30. X-T30 che è una macchina mirrorless davvero davvero fantastica. Allora, questo corpo pesa solo 333 grammi con la batteria montata all'interno. Batteria di cui vi parlo subito, che è situata nel vano che troviamo sotto, ed è la classica batteria della serie X-T di Fuji, ossia la W126, che grazie alle performance del nuovo sistema operativo che è stato implementato in questa macchina promette fino a 380 scatti e quasi 45 minuti di girato in 4K, che è una durata abbastanza elevata per quelle che sono le mirrorless. Certo, questi qua sono i dati ufficiali. Io l'ho provata per diverse ore e devo essere sincero, è durata davvero parecchio. Non sono riuscito a scaricarla, con tutto il materiale che ho girato e realizzato, non sono riuscito a buttare giù completamente la batteria. Anzi, non ero arrivato neanche a metà. Con le mirrorless questo discorso della batteria è un pochino più difficile da affrontare, semplicemente per il fatto che tra utilizzo schermo, utilizzo mirino, modalità video, se registriamo in 4K e in Full HD, cambia naturalmente l'assorbimento della batteria. Ma rimane di fatto che è una camera che ha delle prestazioni davvero davvero molto elevate. Grazie! 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 naturalmente abbiamo lo stesso identico attacco per le ottiche che è l'attacco X di casa Fuji questo ci permette di utilizzare le stesse ottiche e se abbiamo un X-T3 e vogliamo affiancare un secondo corpo macchina beh l'X-T30 è il corpo macchina perfetto anche se probabilmente Fuji intende questo come corpo macchina per far approcciare alla fotografia anche gli amatori sì perché questo è un corpo adatto sia ai professionisti che agli amatori professionisti perché riesce a raggiungere una raffica di 30 fps con l'otturatore elettronico mentre con l'otturatore meccanico perché ha entrambi fino a 8 fotografie e qui ragazzi devo essere vi sincero io ho provato altre macchine Fuji e questa fa parte di quella famiglia di belle macchine fotografiche belle macchine fotografiche perché compatta, leggera, le lenti non pesano tanto io l'ho provata con il kit 1855 F2.8 F4 con cui viene venduta perché è un kit che viene venduto così inviatomi da RCE Foto che ringrazio ancora non è l'ottica migliore ci sono tantissime altre ottiche compatibili anche con tutte le altre macchine della famiglia XT di Fuji e sono uno spettacolo io quando provai l'XH1 circa un anno fa rimasi sbalordito dalla qualità dell'immagine dalla profondità del Firewall e da quello che si riusciva a recuperare ed ottenere e parliamo quindi di ombre ed alte luci peccava un pochino in alcuni aspetti sull'autofocus che in questa macchina è stato implementato davvero tantissimo infatti abbiamo un sistema completamente nuovo di autofocus e di face tracking e face detection che funziona davvero egregiamente messo a paragone con altri della stessa categoria perché ad esempio questa camera per il prezzo di mercato entra nella categoria praticamente dell'A6400 con questo sistema Sony non la stravince quindi c'è da combattere parecchio con Sony su questo sistema di autofocus che è molto preciso riesce subito a tracciare un volto appena lo nota e continua a tracciarlo anche in movimento autofocus buono anche il passaggio tra i vari piani focali quasi sempre perfetto quindi sono assolutamente soddisfattissimo di questa camera a proposito di sensore di cui stavo parlando come detto questo è un sensore APS-C con un fattore di crop di circa 1,5 per tra 1,5 e 1,6 ed è stato annunciato stesso da Fujifilm che non produrranno mai corpi full frame perché? perché hanno fatto una scelta quella di spingere tantissimo sul sensore APS-C e di sfruttarne tutte le sue capacità perché è un sensore che comunque ha tantissime capacità e ha tantissima versatilità lo vedremo poi in un video approfondito dove parlerò soltanto della differenza tra i vari sensori e Fujifilm ha dichiarato che non produrrà mai il mai è sempre un pochino da interpretare macchine full frame ma punteranno sempre su APS-C e medio formato medio formato dove sono una delle poche case che produce delle ottime macchine con quella tipologia di sensore ma stiamo parlando della X-T3 e a differenza naturalmente la X-T3 è la sorella minore della X-T la X-T30 è la sorella minore della X-T3a ma naturalmente la camera che succede alla X-T20 rispetto alla X-T20 cambiano diverse cose di sicuro il corpo macchina rimane quasi pressoché lo stesso la troviamo in due colori sia black che silver ma la differenza che troviamo è sul retro perché non abbiamo più il pad con le direzioni ma abbiamo un joystick finalmente ad otto direzioni molto ma molto comodo cambia l'impugnatura per il pollice dove il tasto Q era prima posizionato in questa posizione qui adesso invece lo troviamo in una posizione leggermente più scomoda ma comunque raggiungibile mentre abbiamo sempre un monitor flippabile e ribaltabile a 90 gradi verso l'alto e non a 90 gradi ma a 45 gradi verso il basso avrei preferito su questa camera avere uno schermo ribaltabile sarebbe stata la camera perfetta anche per i vlogger perché? perché col video ci si diverte tanto ebbene sì Fuji ha fatto capire di voler andare anche incontro ai videomaker con altre macchine come la X-T3 e come la X-H1 e ha fatto ancora altri passi da gigante verso i videomaker che hanno la possibilità di utilizzare tutte le funzioni di messa a fuoco continue che abbiamo in fotografia quindi anche il face tracking le tracking e quant'altro ma soprattutto possiamo registrare fa il video in 4K DCI quindi il formato cinematografico in Ultra HD che è 4K televisivo in 2K formato molto strano per una fotocamera ma lo abbiamo integrato e poi abbiamo il Full HD con le seguenti limitazioni però perché questo per esempio è una limitazione da tenere in considerazione in 4K DCI registra fino a 30 fotogrammi al secondo con 100 Mbps massimo di framerate possiamo registrare un massimo di 10 minuti di clip da tenere in considerazione che il sensore registra le immagini a 6K e poi le da un scala a 4K questo ci permette di avere molto più dettaglio nelle immagini che saranno sempre molto più nitide rispetto alle fotocamere che croppano l'immagine quindi ritagliano una parte del sensore per poter registrare i video in 4K poi scendiamo con l'Ultra HD funziona esattamente allo stesso modo abbiamo la possibilità di registrare fino a 100 Mbps poi scendiamo al 2K e al Full HD fino a 60 fps possiamo registrare a 200 Mbps con una durata massima di 10 minuti per clip queste limitazioni purtroppo vanno un po' contro i videomakers che hanno esigenze differenti che hanno esigenze di registrare per più tempo del materiale come ad esempio può essere un concerto può essere un'esibizione live ed abbiamo ancora di più video fino a 120 fps registrati a 200 Mbps ma per clip massime di circa 6 minuti ora a fronte di un bitrate così elevato perché comunque parliamo di bitrate molto elevati quindi tante informazioni all'interno di quei fotogrammi abbiamo una riduzione molto drastica di quella che è la durata di registrazione delle clip ora tutto dipende dalle esigenze che si hanno se si registrano clip brevi da 20-30 secondi 10 secondi 5 secondi come la normalità delle cose avere un ottimo file con una compressione che ha tantissimo spazio per poter inserire materiale questo diventa molto interessante probabilmente la banda passante comunque non sfrutterà mai tutti i 200 Mbps ma andrà leggermente sotto ma comunque è un valore da tenere in considerazione pensate che Sony A7III ad esempio in 4K regista massimo a 100 Mbps se scaliamo in Full HD registrerà a 50 Mbps quindi sono cose da considerare sono valori da considerare se si vuole ottenere il massimo da queste camere un'altra cosa fantastica da ricordare è l'emulazione delle pellicole che abbiamo all'interno delle macchine Fuji e come sulla X-H1 su questa X-T30 troviamo la simulazione della pellicola Eterna che è una delle simulazioni pellicole più belle che io abbia mai provato su una macchina fotografica su una fotocamera in genere sia per scattare foto sia per realizzare video è fantastica infatti tutte le riprese che ho fatto le ho fatte tutte quante con quella simulazione anche gli scatti partono dalla simulazione che cos'è una simulazione? per chi non lo dovesse sapere lasciatela chiamare profilo colore viene impostato una matrice di colori specifica per richiamare una determinata pellicola ce ne sono tantissime ma per me la più bella è quella Eterna altre cose da menzionare è che scatta fotografie RAW in 14 bit a 26 megapixel come detto perché il sensore è da 26 megapixel è stato migliorato l'autofocus con poca luminosità infatti riesce a mettere a fuoco anche meno 3V questo rende questa macchina davvero interessante special modo se ci si ritrova in situazioni di scarsa luminosità certo essendo una PSC purtroppo abbiamo sempre dei problemi con le alte luci con le basse luci e quindi con gli alti ISO dove giustamente non si riesce a raggiungere determinati livelli che ci si aspettano ma come sempre detto è anche vero che una buona immagine non è per forza costituita da 6400 ISO io per esperienza personale e lavorativa a 6400 ISO è il mio limite massimo oltre vuol dire che non posso né registrare né scattare foto ora le aree di messa a fuoco coprono quasi tutto il sensore quindi riusciamo a mettere a fuoco molte più porzioni dell'immagine e proprio per questo motivo avendo perso anche i tastini direzionali qui dietro per posizionare al volo quelli che sono i punti di messa a fuoco potremmo utilizzare il joystick ma Fuji ha fatto una cosa ancora più intelligente possiamo utilizzare lo schermo ma mi direte questo si poteva già fare anche prima certo di sicuro guardando lo schermo possiamo con il dito passare sullo schermo e scegliere un punto di messa a fuoco ma quando andiamo ad avvicinare l'occhio all'EVF naturalmente si attiverà l'EVF e grazie al sensore di prossimità si disattiverà lo schermo abbiamo la possibilità con il pollice mentre abbiamo la macchina all'occhio di utilizzare lo schermo come touch come pad e quindi andare a selezionare le aree di messa a fuoco che ci interessano e per chi ha un bel nasone come il mio si può andare a selezionare soltanto un'area dello schermo perché si il mio nasone batte sullo schermo si può andare a selezionare soltanto un'area dello schermo che ci permetterà quindi di essere utilizzata come pad il design di queste macchine è sempre fantastico io apprezzo tantissimo questo stile altamente retro e troviamo sul corpo macchina una presa forse non tanto ergonomica è vero anche che la macchina che il corpo è molto piccolo abbastanza ben bilanciato ma secondo me un paio di centimetri in più sotto non sarebbero stati male troviamo come consuetudine di Fuji diverse ghiere sopra la macchina abbiamo prima la ghiera per accendere e spegnere la macchina il pulsante di scatto abbiamo le due rotelle una frontale e un'altra posteriore per tempi e iso mentre i diaframmi vengono gestiti come da tradizione dall'anello che abbiamo sulle lenti sulla lente tra altre cose abbiamo uno switch che ci permette di scegliere se deve essere automatico oppure se la scelta del diaframma deve essere automatico oppure manuale se messo in manuale abbiamo lo scorrimento infinito in questo caso che ci permette di selezionare il diaframma che ci interessa abbiamo la ghiera dei tempi che può essere settata in automatico con la A e abbiamo poi il massimo che vogliamo raggiungere questa è una cosa molto molto comoda perché impostiamo un massimo valore che vogliamo raggiungere ma possiamo sempre scendere abbiamo il valore per l'esposizione quindi l'esposimetro qui in alto abbiamo poi la ghiera di selezione di tutte le varie funzioni che abbiamo sulla camera è una cosa comodissima che non vedevo da un po' di tempo sulle mirrorless il flash cosa molto comoda sulle mirrorless special modo poi per chi è amatore ha bisogno comunque di avere a portata di mano un flashettino per poter scattare delle fotografie quando si trova in condizioni un pochino più critiche un'altra cosa che ho trovato salvavita su questa macchina è un tastino che troviamo sopra il tastino dell'auto in pratica tutte le funzioni possono essere settate su manuale e quindi noi stiamo scattando possiamo settare la macchina in qualsiasi modalità noi vogliamo quindi selezioniamo la macchina in manuale impostiamo la camera ma se c'è un momento in particolare che vediamo che sta cambiando la luce dobbiamo fare uno scatto al volo abbiamo questa levetta accanto alla ghiera dei tempi che ci porta la macchina in automatico tirando questa levetta la macchina diventa completamente automatica e possiamo scattare e recuperare quell'istante e quel momento senza dover per forza riregolare la macchina al volo e questa è una funzione molto intelligente per chi è dedicata a tutti gli amatori o meno professionisti che si stanno approcciando a questo mondo quindi diventa molto ma molto importante perché è una ghiera salvavita una volta cliccata la macchina passa in automatico si scatta, si recupera il momento poi si ritorna in manuale e si continua a lavorare cosa altro dire sul corpo macchina? semplicemente che sul lato abbiamo una sola porticina dove abbiamo un jack da 2,5 una connessione micro HDMI e finalmente una porta USB di tipo C porta USB di tipo C che ci permette tre cose fondamentali la prima di connettere la macchina ad un computer per poter scaricare i contenuti la seconda di poter ricaricare la macchina quindi non solo ricarica delle batterie ma anche se stiamo ad esempio registrando dei video possiamo ricaricare in viaggio la macchina con un caricabatterie portatile con un power bank e in più possiamo attaccare delle cuffie con attacco USB di tipo C e oggi se ne trovano tantissimo in commercio per poter ascoltare l'audio che esce dalla camera unico difettuccio è questo ingresso per il microfono che si è presente ma è da 2,5 pollici quindi il jack classico da 3,5 che in questo momento non ho sotto mano qui dentro non entra ma c'è bisogno di un adattatore che troviamo sia originale che di terze parti vanno bene entrambi beh, cos'altro dire? siamo giunti alla fine della descrizione della macchina cosa ne penso io? beh, questa è una macchina davvero fantastica sì, lo so, dico quasi di tutte le macchine ma semplicemente perché quando le provo e ne rimango colpito capita davvero spesso di rimanere colpito da una macchina è perché ogni macchina ha un determinato modo di approcciare alle cose questa macchina per esempio è bellissima per i paesaggi, per i ritratti è una macchina che io porterei con me se fossi nel mondo Fuji a chi la consiglio? beh, la consiglio a chi ha un bel budget da poter investire perché comunque solo corpo viene venduta a 899 euro se non vado errato circa sul mercato questo è il prezzo di mercato in kit arriviamo sui 1200-1300 con le lenti quindi non è una macchina economica per l'amatore che vuole fare il passo di qualità ma se avete questa possibilità di poter fare questo passo io ve la consiglio la consiglio invece a chi viene da una X-T2, una X-T20 o a chi ha una X-T3 o una X-H1 da affiancare come secondo corpo macchina perché questa è davvero fantastica e quindi siamo giunti alla fine anche di questa review sulla Fuji X-T30 che vi ricordo mi ha inviato RCE Photo quindi questo video in collaborazione con loro è uno degli store online di usato fotografico più grande d'Italia sono presenti con degli store fisici in quasi tutta Italia ma potete tranquillamente acquistare dal loro sito web e questa macchina come tanti altri le trovate sul loro sito a prezzi davvero fantastici vi lascio qua sotto i link in descrizione per andare a vedere non solo il loro canale YouTube dove tra le altre cose vengono pubblicati anche alcuni dei miei contenuti ma dove trovate un sacco di offerte davvero molto allettanti come al solito vi invito a lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto a condividerlo con gli amici che vogliono comprare una Fuji vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che stanno uscendo e che ne usciranno perché ce ne sono in programmazione davvero davvero tanti di seguirmi su tutti gli altri social come Facebook e Instagram perché lì sto pubblicando dei contenuti e parliamo anche di altre cose anche di tutorial, dei corsi là ci sono tutte le anticipazioni mentre qui su YouTube abbiamo una programmazione da rispettare insomma cos'altro dirvi noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video